Buon pomeriggio TANES, campionato di promozione di fascia C dal comunale di Olivarella, la quattordicesima di andata, l'Accademia San Filippo D'Emmo, l'AVS, l'ACI Sant'Antonio. Partiti! E' il numero 3 che conclude con un tiro in forza del primo tiro della giornata, Giuffrita, Giuffrita, attenzione, un pallone, la deviazione, in aria, attenzione, il corpo di testa, calcio di punizione da una posizione molto pericolosa. Musumeci dovrebbe essere l'incaricato per questo calcio di punizione, parte ora Musumeci, il tiro in porta, parate da, errore, errore di Soppino, ha segnato Musumeci che ha preso prima il pallone, forse il sole, non lo so, tradito dal sole, gol, 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 guarda. E' la nuova volta, intanto un tiro tra le braccia. Gol, gol, gol di Musumeci, la doppia, l'ACI Sant'Antonio, gol splendido, perfetto. Lo passiamo a buonare, ma questo è un gol veramente bello, quasi al volo, una pallonata. E poi attenzione! Gol annullato per fuori gioco, i tifosi venuti ad accompagnare la squadra dell'ACI Sant'Antonio. Gol di Borsi, 3-0 per l'ACI Sant'Antonio. Gol di Borsi, 3-0 per l'ACI Sant'Antonio. Poi c'è il collo, è stato 3-1. Piccola corsa alle distanze per l'ACI Sant'Antonio. Chi è questo? Questa è ora, 4-8. Un tiro di pochissimo sopra la tavessa. главa dell'ACI Sant'Antonio. Si conclude così la gara con la vittoria dell'ACI Sant'Antonio sull'Academy San Filippo per 4 a 1 il Wi-Fi del Santigianese alle prossime puntatissime